ok insomma ora ci mettiamo in termine con loro l'amico tuo come si chiama? Lorenzo ah è giusto qua tra pure Lorenzo adesso ci diamo un bacetto bacetto vai vi seguo perché lui è così veloce? noi andiamo alla stessa identica velocità solo che non sembra quando sembra prima stavamo appagliati vedi adesso andiamo nella stessa direzione chiaramente se vai nelle velocità opposte vai a 70 km orari uno rispetto all'altro ma guarda anche la nostra velocità rispetto al suolo vedi così stiamo contro vento quindi rispetto al suolo siamo lenti noi vogliamo sempre a 35 solo che se stiamo in un un vento di 10 controvento andiamo a 25 a favore a 45 e sta cosa ne devi ben tenere conto quando soprattutto quando stai vicino al costone che fai i 360 stretti vicino al costone perché il terreno che perdi in questa direzione è molto di più di quello che perdi se viri contro vento quando cominci a rilassare si cosa senti adesso è un momento che salgono tutti qui si dice salgono pure le lavatrici perché vuol dire che la viana ha accumulato abbastanza calore che quando sto calore raggiunge la montagna sale tutto è bellissimo qui qua è una posizione morbida qui si 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 dobbiamo andare a vedere tante volte se sotto a sto cumuletto qua si sale va vedi quello la in valle sta girando una bellissima termica a centro valle però qualcosa mi dice dovrebbe stare pure qui sotto quindi la direzione è buona le due sensazioni si è una scommessa no? tu dici secondo me lì c'è e poi magari il ciclo è finito esatto perché se tu arrivi sotto al cumulo e tu immagina che le termiche sono cicliche non sono costanti no? quindi se arrivi che il ciclo è ancora attivo lo sali se il ciclo ormai è spento vai passi dritto e vai alla prossima ovviamente in questa fase con questa quota questa condizione così che si sale un po' dappertutto diciamo stai abbastanza sereno invece di mattina per esempio quando se non sta in termica scendi a piombo è lì è molto più tecnica il pilotaggio infatti dalla forma che ha la nuvola mi sembra piuttosto morta è un po' dappertutto e sono un po' dappertutto Olavato inoltre remo indoltre ed inoltre Ecco invece l'asile dove sta salendo quello blu si sta attivando un nuovo ciclo, adesso dobbiamo vedere se riusciamo a prenderlo, vedi quello arancione lì pure entrato, sta salendo. Che spettacolo, oggi c'è una visibilità meravigliosa, guarda che bello riflesso sul mare. E' difficile salire, vai a rile d'acqua, va a rile d'acqua, va a rile Eccola. Vai. Sì. Ok. Vai presa a destra. Vedi, restiamo a quota di quota, per di quota è piuttosto semplice. Non è che ti devi incontrare, è acquistarla. Ecco, abbiamo fatto mezzo giro dentro e mezzo giro fuori, cerchiamo di centrarla bene. bene. Va perché fino a questa quota, stiamo girando proprio la quota. Ok. Allora l'importante è che se va su anziché giù. Eccola. 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 Mamma. Eccola. 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 Allora sinistra Puoi fare dei saluti a qualcuno? Alla camera, ciao mamma, queste cose qua. Pensavo mi stai a far schiantare improvvisamente. Non devi fare gli ultimi saluti. Un saluto al gruppo Fanta. Ciao Fanta. Dai Edris Mertens, ci pensa lui. Questa ce la mettiamo via che ci salviamo un po' di batteria. Ciao belli.